Il prossimo 22 aprile è la giornata della terra, una ricorrenza celebrata ogni anno dalle Nazioni Unite per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali sul nostro pianeta. E nel contesto delle celebrazioni per la giornata della terra, da domani fino a domenica 21 aprile a Roma torna il villaggio per la terra. Il format ideato da Earth Day Italia è realizzato in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma che anche quest'anno si svolgerà alla terrazza del Pincio al galoppatoio di Villa Borghese. Quattro giornate ricche di eventi e di appuntamenti da non perdere. Per farceli raccontare abbiamo in collegamento Pietro Primaldi del gruppo Giovani Earth Day Italia. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Grazie per l'invito. È un piacere essere qui con voi. Il villaggio per la terra di quest'anno sarà appunto dal 18 al 21 aprile tra la meravigliosa terrazza del Pincio e il galoppatoio di Villa Borghese a Roma. Il focus del 2024 sarà pace e ambiente. Saranno quattro giornate indimenticabili tra ambiente, sport, spettacolo e cultura con un programma fitto di eventi, incontri, spettacoli e con un villaggio che sarà dedicato anche ai più piccoli con laboratori ludici e didattici. Come ogni anno, oltre chiaramente al villaggio per la terra, Earth Day Italia organizza anche la maratona multimediale One People One Planet, che sarà il 22 aprile, che culmina con il concerto per la terra, che quest'anno si svolgerà nella cornice della nuvola di Fuskas, con protagonista Luca Barbarossa, accompagnato dalla social band. La grande novità di quest'anno di Earth Day Italia è il Festival di Innovability in patta di SRAPT, che si svolgerà invece dal 18 al 20 alla Casa del Cinema di Villa Borghese. Tutte queste manifestazioni fanno parte della promozione di una nuova sensibilità civile ed ambientale, nel contesto delle celebrazioni nazionali della giornata mondiale della terra del 22 aprile. E allora, ricordiamolo ancora una volta, l'appuntamento da domani e fino a domenica 21 aprile a Villa Borghese, con il Villaggio per la Terra. Ci sono anche tanti concerti, quindi insomma, io ci vado. Ci vediamo lì, ovviamente, da domani fino a domenica. Grazie mille, allora, a Pietro Grimaldi del gruppo Giovani Earth Day Italia, per essere stato nostro ospite qui a Rapporto Mondo. Grazie a voi, è stato un piacere, un onore. Grazie. Grazie.